ehi amici ciao a tutti sto tornando adesso dal mare dopo quattro giorni il vlog lo farò fra poco sto registrando col telefonino perché non ho altro modo per registrare la gopro è là però non registro sicuramente con quella un video da mandare su youtube in questo istante manderò un video breve 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 soltanto per aggiornamento perché giovedì è un po di tempo che non faccio più dei vlog o delle dei filmati insomma da potervi mostrare soltanto per dire che fra poco tornerò a parma fra qualche ora cioè fra un paio di ore sono a parma sono stato via quattro giorni e basta perché mi sono reso conto che dal mare aspetta che chiudo il finestrino se no non sente niente dicevo che sennò al mare non riesco ad allenarmi come vorrei e come sono abitato a fare a parma perché perché potete immaginare la strada è sempre in salita o sempre in discesa mai dritta quindi non ho neanche tempo per potermi riscaldare ed allenare come voglio quindi ragazzi arriverò a parma ci stavo qualche tempo poi tornerò ancora al mare ma non mi porterò tutta l'attrezzatura da vlog perché sennò è uno stress inutile voglio divertirmi a mare mi sono divertito anche questa volta dico la verità soltanto che questa volta ero anche impegnato molto a fare i filmati con la gopro e quindi parte della bellezza della natura e di quant'altro me la sono persa sto intanto guardando la strada perché sono su una strada molto tortuosa sto facendo una strada normale per tornare a casa ed è stretta e tortuosa e davanti ho una persona che ogni tanto frena ogni tanto accelera quindi devo fare molta attenzione ed è non è una buona cosa parlare al telefono vloggare mentre si viaggia quindi ragazzi non fatelo mai non fate mai questo esperimento noi ci vediamo al prossimo video spero di riuscire a mettere un video domenica o altrimenti vi beccate il vlog che pian pianino sto realizzando perché ancora adesso ho finito con la registrazione qui da mandare subito su youtube continuerò a fare delle ispezioni di video per poter poi portarli in un bel vlog tutto lunghetto spero di esserne capace non sono un travel vlogger come molti altri youtuber sono quindi farò quello che potrò cercate ad apprezzarlo lo stesso ragazzi se questo video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale e attivate anche le campanelline per poter sempre essere avvisati di quando metto un nuovo video ragazzi ciao a tutti